è la storia napoleonica ad arricchire il panorama culturale degli eventi dell'estate lucchese nel chiostro di santa caterina real collegio il 21 22 e 23 agosto ritornano le tre serate con napoleone il progetto da parigi a lucca il gusto di vivere al tempo di napoleone elisa è inserito nel calendario vivi lucca ed è sostenuto dal comune dalla fondazione cassa di risparmio in collaborazione con l'associazione internazionale souveni napoleonier aneddoti circostanze approfondimenti le conversazioni di elisa sono un appuntamento che tutti aspettano nell'estate perché sono molto molto fresche molto carine parlano di aspetti che magari la storia delle volte non batte perché magari viaggia un pochino più alto qua riusciamo ad approfondire alcune tematiche che piacciono alla città quest'anno come sempre facciamo noi ci dedichiamo alla vicenda napoleonica però non in chiave diciamo storica tradizionale quindi sulle battaglie sulle cose ma su aspetti che fanno più parte del personale quindi della vita di napoleone e in generale della grande armé quest'anno ci occupiamo dell'armata a quattro zampe l'armata a quattro zampe che è un'armata diciamo che agito parallelamente a quelle che erano le truppe napoleoniche che però è stata di grandissima importanza e di grandissimo supporto. Nella seconda serata verrà ricreato un salotto musicale ottocentesco per una lezione di storia con il docente universitario Peter X accompagnato dalla musica degli studenti del Passaglia. L'ultima serata in collaborazione con il Cinema Forum Ezechiale si parlerà del film Amore e Guerra di Woody Allen.